bene ragazzi ciao a tutti ben ritrovati oggi siamo in compagnia di due smartphone dalla colorazione molto simile e due top di gamma di due case diverse casa lg casa htc abbiamo la m8 per htc e lg g3 per lg entrambi in colorazione oro vedete la colorazione è veramente molto simile forse ancora più tendente al rosino questo oro di htc 1 m8 ma i materiali sono completamente diversi abbiamo infatti plastica per lg e alluminio invece per questo htc 1 m8 che in questa colorazione oro ha un aspetto veramente molto molto bello mi piace veramente tanto andiamo quindi a vedere subito cosa cambia tra questi due dispositivi entrambi hanno le gesture a schermo spento senza dare utilizzare i tasti quindi veramente una plus ottimo abbiamo alzo la luminosità anche su lg g3 due display bellissimi 5.5 pollici per lg g3 e 5 pollici per quanto riguarda htc 1 m8 full hd e 2.5 k quindi anche come risoluzione è diversa abbiamo però dimensioni e form factor abbastanza diversi infatti vi faccio subito vedere dimensioni visto che mi sono state chieste parecchie volte di differenza abbiamo la stessa medesima altezza larghezza un po più largo il nostro lg g3 ma non di tantissimo comunque certo poi nell'uso quotidiano si sente questa differenza di larghezza vedete spessore sono praticamente medesimi come spessore quindi portabilità effettivamente migliora htc 1 m8 per il fatto che è più stretta e quindi si riesce a tenere meglio in mano tuttavia per quanto riguarda la portabilità schermo dimensione allora va tutto a vantaggio gli lg g3 in quanto abbiamo un 5 pollici con un'altezza elevatissima per quanto riguarda htc 1 m8 mentre un 5.5 pollici con la medesima altezza se non leggermente inferiore per lg g3 tuttavia la larghezza è tutta vantaggio di htc 1 m8 quindi come portabilità complessiva effettivamente è meglio htc 1 m8 su questo non ci piove come fluidità di sistema anche è leggermente ancora più fluido htc 1 m8 perché è stato meglio ottimizzato ma per questo lg g3 si parla di tanti bug che sinceramente io non ho ancora trovato sì è vero qualche volta capita che abbiamo un leggero lag nel fare una cosa ma capita una volta ogni 100 ore di utilizzo cioè non lo so io mi sto trovando veramente benissimo con questo lg g3 così come mi sono trovato benissimo con l'alme htc 1 m8 che ho ottenuto tantissimo quindi sono due bellissimi smartphone parlo subito di batteria mi è stato chiesto quale dura di più secondo me alla fine come utilizzo con lo stesso utilizzo con i due smartphone con le stesse quindi notifiche in push con la stessa sim ovviamente in giorni diversi non il medesimo giorno ci ho praticamente fatto la stessa cosa sono arrivato dalle 7 e mezza alle 22 e mezza con lg g3 dalle 7 e mezza alle 23 10 con htc 1 m8 quindi dura 40 minuti in più però in lg g3 abbiamo il plus che abbiamo due batterie mi si scarica la cambio una batteria in tasca e non la senti neanche invece in htc 1 m8 non abbiamo questo plus abbiamo la memoria esterna su espandibile con la memoria esterna su entrambi i dispositivi fino a 128 gb quindi questo plus lo hanno entrambi abbiamo micro sd micro sim nano sim e abbiamo due audio mostruose ma andiamo subito a vedere parlando di schermo cosa cambia tra i due schermi visto che abbiamo anche due risoluzioni quindi vado a prendere le immagini tolgo un attimo dallo schermo il mio lg g3 perché ci sono foto che non vorrei far vedere allora sotto il punto di vista neri sinceramente preferisco lg g3 perché mi sembra allora no preferisco come profondità di nero il nostro htc perché c'è come nero nero è molto più profondo il nero di htc tuttavia le caselle c'è da dire che sull'htc le prime quattro caselle quasi non si differenziano mentre sull'lg g3 si vedono tutte le caselle quindi come sfumatore di nero viene reso molto meglio sul lg g3 mentre come nero più profondo è reso meglio sul nostro htc 1 m8 come bianchi qua abbiamo due bianchi praticamente simili abbiamo forse non so se si riesce a vedere dalla camera un bianco più tendente al grigino sul lg g3 ma comunque sia sono due bianchi quasi identici e ripeto la mia teoria che secondo me un bianco se non è perfettamente bianco ma utilizziamo un solo telefono senza mettere di fianco nessun altro telefono non ci rendiamo neanche conto che sia leggermente più azzurrino più giallino più rosino più grigino se poi ci mettiamo di fianco certo se poi abbiamo un display che al posto di avere un bianco c'è un giallo lì te ne rendi conto ma a questi livelli secondo me nell'utilizzo quotidiano non ti rendi conto di questa differenza di bianco per quanto riguarda i colori abbiamo due colori bellissimi forse su htc 1 m8 sono un po' più luminosi i rossi i verdi e i gialli quindi leggermente meglio come luminosità non come luminosità complessiva come luminosità complessiva preferisco lg g3 ma come luminosità di colore effettiva soprattutto sui gialli e sui rossi preferisco htc 1 m8 quindi due display che comunque sono veramente bellissimi e non gli si può dire nulla perché non hanno imperfezioni da dire questo display ha una pecca eccessiva in qualcosa sì si può migliorare ancora si può raggiungere la perfezione però già così secondo me sono due bellissimi display si vede la differenza tra un 2k 2,5k e un 1080p si vede se andiamo a prendere un'immagine che ha risoluzione 2k perché la vedremo normale su un full hd mentre a piena risoluzione su un lg g3 quindi effettivamente nell'utilizzo quotidiano non ci si rende conto di questa differenza abissale però comunque sia sono sicuro che questo 2k diventerà un abitué sui prossimi smartphone sarà quindi equipaggiato su qualsiasi smartphone futuro e chissà se anche l'interfaccia poi di tutte le smartphone saranno poi adattati alla risoluzione staremo a vedere per quanto riguarda la ricezione qui migliore lg g3 le ho provate entrambi con la stessa sim e devo dire che lg g3 si comportava meglio sotto il punto di vista di ricezione nel solito bunker mi prendeva 2-3 tacche sicure in gprs e a volte una tacca in 3g mentre hdm8 fisso in due tacche gprs per quanto riguarda l'audio in capsula buonissimo su entrambi i dispositivi microfoni buonissimo su entrambi i dispositivi paragonabili al 100% in viva voce abbiamo il plus di avere due casse stereo su hdm8 ma comunque sia come potenza e qualità di suono siamo allo stesso livello secondo me quindi lg ha fatto un lavoro assurdo per quanto riguarda lo speaker microfoni in viva voce qua leggermente migliori quelli di hdm8 quindi piccolo plus che va a vantaggio di hdm8 non è un plus in realtà è un vantaggio di hdm8 punto ossia che in viva voce il microfono porta la voce a chi sta sentendo un po' più più bella però vabbè sono a livello di ricezione speaker e cassa e microfoni sono anche lì paragonabili andiamo subito a sentire una canzone prendiamo la stessa magari hdm8 che ha un audio veramente molto pieno grazie alle due casse stereo lgg3 che ha un audio veramente molto buono avete sentito? secondo me addirittura come potenza è più alto lgg3 che nonostante abbia la cassa posta qua sul retro anche se appoggiato l'audio non viene smorzato più di tanto quindi anche lì lgg ha pensato molto bene alla sua cassa avevamo chiesto perché non l'hanno messa sotto ci hanno detto perché per avere una cassa con una potenza di 1 watt era necessario metterla vicino a dove la cassa raccoglie la potenza quindi ovviamente l'ha dovuta mettere sul retro poi io non sono pratico di queste cose quindi non so dirvi se effettivamente è stata una scusa o è la verità però c'è da dire che hanno fatto veramente un buonissimo lavoro sotto il punto di vista casse andiamo adesso a parlare di browser e qua HTC stravince su tutti in quanto abbiamo un browser HTC che è veramente stupendo non ho nulla da dire al browser HTC poi come velocità di caricamento sono più o meno simili abbiamo le LTS su entrambi che si comporta veramente molto bene colori vedete molto belli su entrambi i dispositivi fluidità di scrolling fluidissimi entrambi i dispositivi doppio tap qui abbiamo un doppio tap su LG che è abbastanza scadente secondo me mentre su HTC One M8 funziona veramente molto bene LG invece è un po' più macchinoso ecco vedete non so dove sono finito ok doppio tap su HTC prende subito doppio tap su LG ci mette un attimo e poi vabbè abbiamo il resizing del testo su HTC che è qualcosa di stupendo mentre non lo abbiamo su browser di LG che non mi piace tantissimo nero su bianco quale preferisco? in questo caso preferisco LG G3 perché ha un bianco che... nero su bianco mi piace di più tuttavia anche HTC One M8 è veramente molto molto bello quindi alla fine la differenza è minima tra i due dispositivi però browser HTC che mi piace mille, duemila, tremila volte in più rispetto a quello di LG parliamo adesso di fotocamera prendiamo il nostro buzz e andiamo a scattare prima una foto con HTC One M8 che è veramente rapidissimo sia nella messa a fuoco che nello scatto avete visto e poi prendiamo il nostro LG G3 apriamo la fotocamera andiamo a fare la messa a fuoco che è ancora più rapida la messa a fuoco è ancora più rapida di quella di HTC One M8 grazie al laser perché abbiamo un autofocus al laser andiamo poi a zoomare qua ragazzi la fotocamera di LG G3 è impressionante rispetto invece alla fotocamera di HTC One M8 che non è così stupenda sia vero quando siamo in condizioni di luminosità particolare la HTC One M8 si comporta meglio ma in condizioni generali generalmente la fotocamera di LG G3 è molto meglio rispetto invece a quella di HTC One M8 che devo dire che gli ultrapixel effettivamente non sono così stupendi in una condizione generale più che altro ne va a discapito della risoluzione complessiva dell'immagine quindi ad avere poi se portiamo su un display più grande la nostra immagine una foto un po' troppo sgranata ecco andiamo poi a vedere come si comporta con i giochi come si comportano con i giochi e quindi apriamo Real Racing 3 in contemporanea porca miseria qua è già stato aperto allora usciamo da entrambi chiudiamo il multitasking su tutti e due più veloce ad aprire il gioco HTC vediamo nel caricamento caricamento molto più veloce LG G3 come potete vedere quindi LG G3 che grazie al suo clock di GHz 2,5 rispetto a 2,3 se non erro permette un caricamento più veloce dei giochi rispetto ad HTC fluidità impressionante vabbè comunque andiamo a vedere adesso come si comportano fluidità impressionante penso sia uno dei dispositivi più fluidi forse anche un po' troppo un po' troppo sensibile ecco non mi veniva la parola però vedete anche qua non ha nessun tipo di lag fluidissimo è veramente fantastico giocare anche grazie al display da 5,5 pollici con risoluzione quad HD quindi 4 volte l'HD però vedete la fluidità anche di questo HTC One M8 è fantastica la colorazione del display è anche molto buona abbiamo un 5 pollici a disco di un 5,5 che comunque sia ci permette tranquillamente di giocare una fluidità molto buona ecco non è fluidissimo come LG G3 questo è da dire è meno sensibile no fluido è fluidissimo però è meno sensibile rispetto a LG G3 e anche su questo HTC One M8 quando ci troviamo sul curvone con tante macchine non abbiamo nessun tipo di problema quindi come avete visto più veloce nel caricamento LG G3 ma nell'utilizzo nel gioco poi effettivo non cambia quasi nulla abbiamo due dispositivi fantastici per giocare cosa cambia effettivamente tra i due dispositivi? cambia il fatto che è un M8 più portabile quindi più comodo da tenere in mano ma anche per andare in giro tuttavia io devo essere sincero tra i due ho scelto LG G3 per il fatto che mi offre a dimensioni più o meno simili un display molto più grande e secondo me anche più bello abbiamo una ricezione migliore su LG G3 la batteria più o meno l'ho già detto è la stessa quindi alla fine non mi cambia molto nell'uso della batteria anzi grazie alla batteria rimovibile posso anche andare a cambiare quindi è addirittura ad aumentare l'utilizzo se proprio voglio del mio LG G3 colorazione bellissima dentro i miei dispositivi in questo caso notifiche arrivano praticamente nello stesso periodo abbiamo Android KitKat su entrambi i dispositivi ovviamente cambia l'interfaccia la Sense la preferisco mille volte all'interfaccia LG che comunque sia è migliorata molto con l'ultima interfaccia grafica però la Sense ci sono molto affezionate mi piace veramente tantissimo abbiamo due casse buonissime su entrambi i dispositivi abbiamo i sensori che funzionano meglio su HTC questo è da dire GPS no GPS è fulmino su entrambi però il sensore di luminosità su LG G3 a volte ha qualche piccolo problema nel senso che uscendo da un ambiente poco luminoso in un ambiente molto luminoso ci mette un attimo a sistemare la luminosità dello schermo cosa che invece HTC faceva all'inizio ma con gli ultimi aggiornamenti non ha più fatto c'è da dire che LG G3 è uscito dopo ha avuto per adesso un solo aggiornamento vi ricordo che poi è la versione coreana quindi non è quella europea che vedremo sul nostro mercato però c'è da dire che sono due dispositivi top di gamma due dispositivi bellissimi secondo me i più belli i due più belli ad oggi acquistabili rispetto quindi a discapito di Samsung Galaxy S5 e di Sony Z2 ovviamente di marche più blasonate se poi vogliamo parlare di altre marche ce ne sarebbero da dire migliardi e non ne usciremo più però io di questo LG G3 me ne sono completamente innamorato e ha preso il posto di questo HTC One M8 che è stato il mio amore precedente di questo LG G3 quindi due dispositivi bellissimi non posso che consigliarvi l'utilizzo di questi due dispositivi a CRC One M8 si trova di già e in questa colorazione oro è veramente molto bella il LG G3 uscirà tra qualche settimana anche sul mercato italiano bene penso di aver detto tutto quindi se volete fare domande o chiedere approfondimenti fatelo nei commenti questo è tutto ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech Grazie a tutti